In ginocchio seduti sui talloni, mani appoggiate sulla palla. Eseguo il massimo allungamento avanti della parte superiore del corpo. I glutei rimangono appoggiati ai talloni. La testa è in allineamento con la colonna vertebrale e la posizione va mantenuta per 20 secondi. Dalla stessa posizione dell'esercizio precedente, eseguo delle leggere oscillazioni a destra e a sinistra.